La sala operativa dei vigili del fuoco di Campobasso letteralmente è presa ad assalto, centinaia le chiamate, gli interventi non si contano più, mezzi e uomini impegnati su più fronti per tutta la notte ma anche nelle ore successive un lavoro continuo, incessante, sono incuranti della stanchezza come sempre. Durante la notte abbiamo avuto una serie di richieste di interventi molto intensa, quindi circa 80 richieste di interventi e quindi sono stati più o meno questi gli interventi effettuati. Abbiamo quasi raddoppiato tutti gli uomini, quindi le squadre sul territorio, quindi sia su Termoli che su Campobasso e abbiamo raddoppiato anche gli uomini in sala operativa. Stanno operando in questo momento circa 10 squadre, di queste 10 squadre ci sono anche due particolari che sono i mezzi speciali che noi chiamiamo di appoggio, tipo le autoscale e le autogru. La pioggia abbattente ma soprattutto il vento che questa notte ha raggiunto anche i 140 km orari in alcune zone ha creato disagi ovunque. Nell'Interland di Campobasso strade ostruite da rami e tronchi di alberi sradicati verso Montagano, Matrice, sulle statali tra Boiano, Sepino, Castropignano e altri paesi, a Ripalimosani all'ingresso, rami di quercia secolare sulla strada d'ingresso e area messa in sicurezza. Coperture di rimesse anche in lamiera Volate e Via, a Campolieto, ma anche di aziende agricole, a Trivento, ma non solo, a Gambatesa, sulla Fondovalle e Tappino, problemi alla copertura di un capannone avicolo. Nei centri abitati Tegole venute giù dai tetti, disagi nell'area Trignina verso il mare, a Monte Falcone, San Felice, Castel Mauro, Montemitro, Acqua Viva con le Croce, anche cavi elettrici tranciati e la corrente che è mancata a lungo, scuole chiuse a Larino, Monte Falcone, Ururi e in altri comuni. Interventi sono sostanzialmente quasi tutti dovuti al problema del vento, quindi caduta pali, tantissimi, quindi con tranciamento di cavi, interessamento di strade, il problema degli alberi pericolanti, tetti scoperchiati, così come anche canaline, grondaie e tutti quegli interventi legati al vento. Ci sono state delle zone difficilmente percorribili per la caduta dei pali e del tranciamento di cavi, quindi alcune strade sono state interrotte. Come se non bastasse due gli incendi in Basso Morise. Uno nella zona delle piane di Larino e un altro invece a Montenero di Bisaccia, quindi diciamo che questa notte è stata complessa, è stata veramente complessa perché siamo passati da un intervento ad un altro e ci siamo subito attivati per rinforzarci. Per le prossime ore, dal punto di vista meteorologico, cosa si prevede? Da quanto abbiamo potuto esumere dal meteo forse ci avremo una piccola pausa, ma in domenica credo che riprenderà il vento forte, quindi ci stiamo preoccupando anche di programmare la giornata di domenica.